Un ennesimo fatto di sangue ha chiuso il 2022 nella città di Foggia. L'anus horribilis del capologo Dauno, sul fronte degli episodi criminali, si è concluso con un nuovo agguato messo a segno nella serata di sabato 31 dicembre, fortunatamente questa volta non mortale. La vittima è un 37enne, Marco Papa, volto noto alle forze dell'ordine, raggiunto da un colpo di pistola alla gamba sinistra, mentre si trovava in Piazza Nuova, alla periferia di Foggia. Il fatto è accaduto intorno alle ore 20. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, intervenuti a seguito di una chiamata anonima che segnalava la presenza di un ferito in strada. Arrivata l'ambulanza, il 37enne è stato poi trasportato presso il Policlinico Riuniti. Non è in pericolo di vita. Assieme ai sanitari sono giunti sul posto anche gli agenti della squadra mobile di Foggia, che hanno avviato le indagini sull'accaduto. Nessuno ha fornito per il momento indicazioni utili all'attività investigativa. Un aiuto agli inquirenti potrebbe arrivare dalle immagini registrate e dalle telecamere di sicurezza installate nella zona. Tra le ipotesi, quello dell'agguato maturato negli ambienti della malavita cittadina. L'uomo ha precedenti penali per reati contro il patrimonio e spaccio di droga. Sono stati cinque gli agguati mortali messi a segno nel 2022 nel solo capologo lockdown dei 15 complessivi avvenuti nella provincia di Foggia, costati la vita a 16 persone.